allora a questo punto siamo io vi devo lasciare ti posso rubare solo due minuti io stavo cercando di darti la parola perché praticamente non ne uscivamo più da questo discorso perché poi dalla Spagna sta rimbalzando una notizia di calciomercato che vorrebbe Real Madrid potenzialmente vicino a Timo Werner per gennaio è uscito anche il nome di Cardi nelle ultime ore tutto ciò funzionale al fatto che praticamente Vinicius nella partita di qualificazione al mondiale tra Brasile e Colombia si è infortunato tu che idea ti sei fatta e poi ti volevo chiedere anche per quanto riguarda Carlo Ancelotti che non sembrerebbe più convinto di sposare la causa del Brasile perché ricordiamo la nazionale brasiliana non vince da quattro partite perché dopo il pareggio con Venezuela ha perso anche con Uruguay, Colombia e non ultima la partita del Maracanà con l'Argentina quindi ti chiedo tutto questo che su Ancelotti e sui potenziali acquisti a gennaio del Real Madrid e tra l'altro Franci la partita contro Brasile-Argentina nella prima volta nella loro storia la Selesao perde una partita in casa di qualificazione mai successa prima volta contro l'Argentina perfetto allora nozionistico come sempre Salvatore Boemi ma diamo la possibilità di rispondere a Isaiia Michael Ricci così poi ci saluta perché volevo sentire la sua opinione avendo vissuto in Germania sul potenziale acquisto di Timo Werner a gennaio da parte del Real Madrid che poi non è più quello del 2020 autore di 28 gol con il Lipsia ma è un giocatore in tono minore sia nel ritorno all'Lipsia ma anche al Chelsea con tutto che ha vinto una Champions sì si parla di ovviamente di Timo Werner perché ovviamente la situazione del Real Madrid non solo il fortunio di Vinicius ma in generale sono stati colpiti da vari infortuni quindi si trova oggi Ancelotti con una rosa abbastanza corta soprattutto davanti non ha tanta fiducia in Brian Diaz che non sta ripetendo la stagione dell'anno scorso quindi da questa settimana è uscito fuori il discorso di un avvicinamento da parte di Florentino Perez alla corte di Timo Werner che non 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 ha non ha avuto ovviamente grandi fortuni dal suo ritorno all'Lipsia e quindi l'idea sarebbe quella di portare subito a Werner al Real Madrid con l'opzione di 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 un di un prestito con un obbligo di riscatto quindi è un'operazione che secondo i media spagnoli si può fare subito a gennaio c'è interesse da parte intorno di di Werner Timo Werner ovviamente viene una squadra importante come come il Chelsea quindi abituati a certi tipi di palcoscenici e dovrebbe poi essere anche in grado di reggere poi quello che è no l'ambiente del Real Madrid che anche se poi lo Stanford Bridge è il Bernabeu è altra cosa rispetto a Stanford Bridge chiaramente non è la stessa cosa ma si può paragonare sono pochi giocatori che tu puoi portare oggi a gennaio sotto certi tipi di condizioni bisogna anche ricordare che il Real Madrid oggi ha tre nomi fondamentalmente che vuole da un po' uno lo sappiamo e riconosciamo molto bene che è Mbappé e quindi è un'operazione che va che è un matrimonio che non sa se si farà mai però che sappiamo sappiamo che è di grande interesse del Real Madrid poi Alfonso Davies è un altro nome che gira da qualche tempo e poi Erlich Haaland che Haaland è ovviamente nella top list di quasi tutti i top club c'è la clausola da 200 milioni esatto c'è un piccolo problema di una clausola da 200 milioni quindi come tanto il problema per Mbappé e come Haaland il Real Madrid sta cercando di valutare un giocatore come Werner che comunque nel passato ha sempre garantito delle buone prestazioni e che ha ha giocato comunque in una squadra di campioni come il Chelsea fino a fino a poco tempo fa quindi ci può stare che un giocatore come lui sia comunque valorizzato da una squadra come quella del Real Madrid e poi da Ancelotti che conosce poi le caratteristiche di Timo Werner non avendosi lavorato da vicino però almeno conosci quello che può dare un giocatore come Timo Werner non mi ha derrato ragazzi classe 96 quindi magari per una situazione difficilitaria come in questo momento può essere un tampone in attacco anche perché poi il Real Madrid si è ritrovato a giocare con Bellingham che sta facendo benissimo ma non era stato comprato come un attaccante di ruolo esatto tra l'altro Bellingham non ha ancora non ha ancora finalizzato un allenamento completo negli ultimi giorni da quando è tornata dal nazionale quindi c'è un po' di preoccupazione sul discorso dell'attacco del Real Madrid e soprattutto visto che sono in una fase dove sono obbligati sono chiamati obbligati a vincere ovviamente visto la loro primata attuale e la classifica comunque corta della Liga c'è comunque un interesse per portare avanti una trattativa come quella di Timo Werner o simili giocatori che possono essere comunque importanti e possono portare qualcosa alla squadra in immediato per l'appunto è uscito anche il nome di Cardi che poi ha caratteristiche diverse da Werner perché sono due attaccanti completamente diversi Icardi diciamo che in un certo senso è risorto al Galatasaray però il Real Madrid è un'altra cosa quindi secondo me poi anche da un punto di vista prettamente caratteriale se dovessi scegliere uno dei due vado dritto su Werner ma solamente per un punto di vista prettamente di spogliatoio sì c'è il discorso che comunque sì di spogliatoio sicuramente Werner ti può portare qualcosa di più rispetto ai Cardi anche a livello forse umano a Werner ti porta più di Cardi? no a livello di spogliatoio a livello umano poi c'è il fatto che quest'anno Real Madrid ha perso Benzema e quindi qualsiasi giocatore che tu porti in attacco che vai a cercare non farai fatica sempre a trovare un suo sostituto e il Real Madrid fondamentalmente non è ancora riuscito a trovarlo ha preso il giocatore a livello di spogliatoio il Real Madrid dovrebbe avere bisogno di gente con personalità e Werner non mi dà questa impressione che abbia personalità sposi il mio progetto sposi la mia idea quindi Cardi sarebbe perfetto sì secondo me io sinceramente Werner io guarda se ti devo dire la mia nessuno dei due sono giocatori ma c'è un falso mito sui Cardi secondo me che lui sia uno spacca spogliatoio o cose del genere cioè non è beh a lungo direi che sul discorso i Cardi ma no 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 prego vai pure vai pure no no prego prego finisci questo secondo me la valutazione è che se sono da top club come Real Madrid entrambi i giocatori non scalano i cuori della piazza del Real Madrid questo è ovvio e bisogna dirlo ma infatti è solamente un tamponamento fino a fine stagione per poi virare su appunto o Haaland o Mbappé quindi giustamente loro secondo me dovrebbero puntare più sui Cardi anche perché per lo stile di gioco che ha il Real Madrid ha bisogno più rapace d'aria come come lo è appunto l'argentino in questo caso però se tu puoi andare a sostituire uno a uno Vinicius i Cardi non è quello no quello no è sbagliato non c'entrano niente Timo Werner è un giocatore che può fare la fascia e che può anche fare il centro avanti ad occasione cosa che fa i Cardi ovviamente è un numero nove poi tra le altre cose Timo quando ha fatto il centro avanti davamo il 2020 con l'Ipsi aveva fatto addirittura 28 gol quindi può fare entrambi i ruoli esatto è molto più eclettico in quel senso lì e cosa che potrebbe essere utile ad Ancelotti proprio in situazioni di emergenza parlando di Ancelotti mi chiedevi prima del Brasile come ovviamente sono state molte notizie sull'avvicinamento al Brasile sappiamo bene ovviamente che Ancelotti ha sempre avuto il pallino della Nazionale anche in un futuro non solo quella del Brasile poi era stato avvicinato anche a Nazionali Africani in un passato non so se ve lo ricordate anche con la Costa d'Avorio ma era lui che aveva espresso questa preferenza c'era un interesse perché ha sempre pensato di fare poi in un futuro l'allenatore di una Nazionale era ancora all'Everton a tempo e faceva un po' fatica nell'Everton di allora e quindi c'era l'idea di andare a prendere la Nazionale e secondo me questo pallino gli è rimasto perché poi è arrivata la chiamata magica di Florentino e poi tutto si è risolto perché la carriera di Ancelotti ha ripreso verso lo splendore che aveva dopo le batoste di Napoli e Everton non so se vi ricordate che appunto Ancelotti non veniva da un momento glorioso in quel momento poi è arrivato del Real Madrid è tornata a vincere ovviamente la Champions League ha fatto ovviamente un percorso importante con il Real Madrid e oggi si chiede sicuramente ha senso andare a prendere una Nazionale come quella del Brasile che tra l'altro dicevate prima è in forte crisi è un po' in forte crisi di identità è un crisi per il gioco che un po' che manca e forse anche dei giocatori realmente capaci di portare il Brasile ma anche sfortunata perché poi deve far fronte a tanti infortuni perché si è fatto male Neymar Casemiro Benisius Ederson che è sostituibile da Allison però insomma è il Brasile che non il Brasile quello dei tempi d'oro di Ronaldo Ronaldinho e Rivaldo per intenderci quindi è un Brasile che ha delle individualità ma sta affrontando una situazione molto difficitaria perché è attualmente sesto nel girone di qualificazione al mondiale ne passano sei e la settima va allo spareggio quindi insomma alla fine si qualificherà per il mondiale però insomma il Brasile eravamo abituati a vederlo primeggiare e a dominare chiaro oggi fa molto più fatica per i motivi di cui abbiamo appena parlato infortuni ma anche per un discorso magari struttural e politico all'interno della federazione brasiliana si fa fatica a trovare un consenso su quello che è il profilo più adatto per una nazionale che appunto si rivede non con le stelle del passato ma che deve magari fare un po' più da meno da commissario tecnico ma un po' più da allenatore se mi potete passare il termine nel senso che bisogna andare a fare un lavoro un po' più preciso di andare a cercare giocatori che siano idonei a ricreare un nuovo gruppo vincente per il Brasile sì ma il problema del Brasile a parte quello che avete detto voi e io concordo in pieno è comunque che hanno sette infortuni incredibili Militao Neymar Vinicius è giustamente difficile anche i panchinari cosiddetti panchinari sostituire loro sia in termini di campo ma anche di personalità e diciamo potenza nello spogliatoio presenza nello spogliatoio cioè bisogna anche capire che il Brasile ma se sempre è il Brasile non esiste che tu vai a pareggiare in Venezuela ho capito ma è Franci però Neymar infortunato Militao infortunato Vinicius Junior infortunato Casemiro infortunato e capisci che Ederson infortunato non so se Isaia ci deve lasciare lo salutiamo grazie mille grazie mille ciao e a questo punto dopo aver scelto ma che squadra ti fa Isaia? eh non glielo ho chiesto sono dell'Inter interista come voi e quindi e quindi vi lascio spero in buone mani no per parlare dell'Inter della partita chiave ma anche se l'Inter perde sinceramente guarda posso essere poi ci andiamo sull'Inter devo un attimo finire il discorso dai vi lascio grazie ciao Isaia ciao ciao Isaia ciao Isaia allora io ho sentito le opinioni di tutti quanti eh volevo andare un attimo da da Tavor per sentire anche il suo di pensiero inerente a questo mercato di riparazione anche se il mercato riaprirà il 2 gennaio del Real Madrid eh Icardi Werner o nessuno e poi su Ancelotti allora io l'unica cosa che ho paura di Werner è il discorso di adattamento ehm certo è che se uno fa un discorso di prestito con diritto prestito con obbligo ehm potrebbe valere la pena per questo più che altro presto con diritto potrebbe valere la pena per questi mesi alla fine metti uno di caratura è importante come Werner e via dipende sempre da Ancelotti quello che vuole perché se vuole una prima punta allora meglio unicardi e se vuole uno che ti faccia un po' più movimento e via avanti e via avanti con Werner eh quello è il discorso in più bisogna vedere quello che può ulteriormente enfatizzare il discorso di Bellingham cioè prendere uno che magari ti può andare a o meglio prendere quello che ti può andare meno a a limitare Bellingham nelle sue giocate esatto riguardo Ancelotti esattamente quello è il punto chiave esatto riguardo Ancelotti io Ancelotti a me dispiacebbe tanto vederlo andare a allenare il Brasile perché è uno che può insegnare veramente calcio ancora quindi intanto Bohemi chiede l'acqua non so a qualche entità forse no ma tutto questo si è espresso anche Murigno che ha detto ma chi glielo fa fare in un certo senso di andare a allenare il Brasile quando sei nel miglior club al mondo che è Real Madrid ma poi però scusate però scusate 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 posso dire al volo su Ancelotti il Brasile vai per questo no non puoi ma allora allora secondo me invece da un punto di vista dal punto di vista di Ancelotti allenare il Brasile che essendo una nazionale storica a livello diciamo anche di trofei e diciamo il Real Madrid delle nazionali e riportarla nel calcio che conta al vertice per lui è una bella sfida non è che stai andando a allenare ma io sono d'accordo con te ma lui ha già vinto ho capito ma lui non mi ha già il gioco per del Brasile cioè il Brasile lo sappiamo la Selesao è giochi bene e vinci ma se giochi difensivista il Brasile non ti fanno fare due partite ma non è difensivista ma scusami il Brasile ha tanti giocatori tecnici di qualità ma se sono tutti infortunati ma sono tutti ok per adesso ma mi adesso viene a allenare il Brasile e lui manca quanto manca cinque mesi mancano cinque sei mesi e quindi appunto cinque sei mesi ma non è che tra cinque mesi già c'è la prima partita ci avrà qualche modo la gestione di questo se Corral Madrid floppa non vince un titolo e io credo che purtroppo per Carletto può farlo anche perché è nella strada secondo me la Liga la vincono per me non sai che dovrebbe puntare a vincere il Mondiale con il Brasile e così completa il suo grande palmarès che già è bello ampio anche perché a livello motivazionale che deve chiedere più a livello di club per me è proprio l'allenatore giuro io sono convinto che lui sia quello giusto per la rinascita del Brasile lo vedo come il Milan degli anni dei tempi d'oro con Ancelotti altri giocatori di qualità sì ma i giocatori non ce li ha non ce li ha ma secondo me il focus della questione ragazzi è proprio quello secondo me lui non è convinto mentre prima magari poteva essere più convinto era perché pensava di avere una rosa all'altezza adesso rendendosi conto nelle qualificazioni mondiali di quello che è il Brasile attuale sta vacillando questa è la sensazione che è trasparso un po' a me e un po' a tutti allora vediamo la partita contro l'Argentina allora tu dimmi se il Brasile mi devi dire tu se il Brasile puoi giocare allora Allison in porta perché adesso sono infortunato Emerson Marquinhos Gabriel Carlos Augusto André Bruno Guimares Rafinha Rodrigo Martinelli Juan Jesus Gabriel Jesus Gabriel Jesus Panchina Panchina Nino sinceramente Nino non so chi sia Douglas Luiz Panchinaro Alla Stone Villa Joe Ellington mezzo giocatore pure espulso Revega che non è Gabi Veiga è Revega Roberto Veiga Hendrick un altro fenomeno che è arrivato no ragazzi no fermi fermi tutti aspettiamo perché ne parlano tutti veramente come un futuro cracker ne parlano tutti ma 17enne ragazzo inquadrato più giovane nella storia del Brasile con Ronaldo e infatti aspettiamo però intanto non ha giocato tutto sto fenomeno poi Renard Lodi Perry ci manche lì invece ha 17 anni Bremer Pepe Paoligno Pedro Bento infortunati Neymar Edermilitao Casemiro Ederson Ederson ok Vinicius Junior ora tu dimmi con una squadra del genere Ancelotti cosa fa ai mondiali o in Coppa America dimmi tu ok questa squadra io ti dico a uno dei Brasile allo stato allo stato attuale è così però fra 5 e 6 mesi e questa ragazza è una bella domanda qual è il mondiale aspetta quando è il mondiale si ricollega a quello che stai dicendo te perché per completare il novero del grande trionfatore anche a livello di nazionali giustamente Federico ci fa notare forse Ancelotti aspetta qualche nazionale europea tipo Inghilterra che cacerà Southgate in caso di brutte figure all'europeo e guardate ragazzi ma l'Inghilterra dopo l'altra volta anche Salvatore l'ha detto l'altra volta anche Salvatore l'ha detto solo inglesi allenano la nazionale dubito dopo lo dubito che prendano un altro italiano all'AFA dubito anche se ti chiami Franciolotti non ne prendono altri italiani sono scelte politiche sono scelte che esulano dal calcio va a finire come Henry Kane che dicevi che perché era amico del principe non andava al Bayern Monaco ma alla fine c'è andato occhio perché c'è un meccanismo inverso sì ma lì è stato io lo dico qui io lo dico qui come ho detto di Garzia che non sarebbe durato a Napoli e come tante altre cose Ancelotti al Brasile se dovesse andare al Brasile vincerà il mondiale va bene lo scopriremo solo vivendo ragazzi se riesce a vincere il mondiale con Pepe e Bruno Guimares allora lì io tolgo il cappello però è difficile con quei giocatori dire Rafflori il coniglio dal cilindro possiamo calare il sipario su questa questione Ancelotti non so se Davor voleva aggiungere qualcosa dipende anche soprattutto dalle motivazioni che Ancelotti nel senso che se è come dice Gied che lui ha voglia di raccogliere la sfida è giusto al 75 mila per cento che raccolga se però anche un solo dubbio è giusto che alla fine rimanga il Real Madrid che trova la rivoluzione anche il Real Madrid ragazzi il Real Madrid deve fare la rivoluzione a meno che Florentino Perez prossimo anno li compra Bappé e Holland e allora ci sta guardate che ragazzi il Real Madrid è plausibile perché prima o poi uno di questi tenori lo prenderà secondo me ma secondo me il prossimo anno Xabi Alonso prossimo anno Xabi Alonso esatto Xabi Alonso esatto Xabi Alonso che ha delle aspirine ha comprato ha creato una squadra giovane che sa giocare a calcio e prenderà un allenatore che sa far giocare a calcio alle proprie squadre e soprattutto far giocare a gioco quindi è perfetto per il progetto che sta creando in attacco dal Bayer Leverkusen scherzi a fare ma guarda può portare chi vuole appunto esatto sono fenomeni quelli tra l'altro poi ha allenato giocatori buoni perché sono buoni quelli del Bayer Leverkusen e li sta rendendo al massimo figuriamoci con grandi giocatori che si ritrova nel Real Madrid e conosce anche l'ambiente del Madrid quindi non è che uno europeo per me intanto c'è una domanda per Salvatore Salvatore secondo te chi vince allora il mondiale non vedo una squadra superiore al Brasile io ne vedo una regione superiore al Brasile Inghilterra la Francia l'Argentina lo stato attuale delle cose non credo l'Argentina faccia il bis anche perché Messi giustamente si ritirerà Di Maria si ritirerà io non ci credo che si ritirerà perché a 39 anni secondo me dopo aver fatto le qualificazioni perché non dovrebbe giocarlo il mondiale e che fa gioca titolare a 39 anni il mondiale ma secondo me l'obiettivo è quantomeno arrivarci poi staremo a vedere ah ok ma 39 anni il mondiale soprattutto non lo so ha già staccato la Francia per me la squadra più forte in assoluto la nazionale più forte è la Francia internazionali la Francia ragazzi ma la Francia non arriva ragazzi per carità bel mondiale vinto dall'Argentina romantico quanto volete il primo e unico mondiale di Messi ma la Francia se avessi avuto anche Benzema Magnello e Pogba avrebbe vinto il mondiale ma ragazzi la Francia la Francia fosse stato per quel miracolo del DB Martinez su Cuolo Panì parlavamo di un'altra storia la Francia sforna talenti la Francia sforna talenti come un panettiere sforna il pane hanno matto ma ragazzi non sono ma sono tutti io non sto sfornando follower perché me ne manca uno per l'atto finale perché da mille siamo andati a 999 quindi non Davor non vale quello progresso lo dovevo far fare prima ormai ma poi Franci non c'è stato il mio carpe diem non sono rimasto fregato vedi poi Franci ci vogliono bene i follower sinceramente la il mondiale si parla della Francia cioè la Francia ha a parte i talenti a parte l'Under 21 l'Under 17 che vince ma soprattutto anche la panchina della Francia giocano tutti quasi titolari in Euro in l'Europa League ma di che parliamo arriva il Brasile con Nenè chi è l'altro lì Bruno Guimares con tutto il rispetto assolutissimamente 21 anni 21 anni c'è tempo magari prima o poi lo vedrai cioè ragazzi io nella mia vita non so se Ancelotti invece ritorna al Milan ragazzi youtube